Venditalia 2022 continua, siamo allo stand di Caffè Torraldo, la torrefazione napoletana con oltre 60 anni di storia e siamo in compagnia del suo responsabile commerciale Italia per il Vending e l'OCS Simone Di Bartolomeo. Buongiorno Simone e bentornato dinanzi ai microfoni di VendingTV.it. Bentornato Fabio, che bello rivederti, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Allora Simone, tu hai una mission oggi, quella di dire a tutti loro dopo ben quattro anni dall'ultima comunicazione attraverso i microfoni di VendingTV. Che cosa Torraldo propone quest'anno a Venditalia per l'OCS e i caffè in grani? Allora, vi presento un poco tutte quelle che sono le novità che abbiamo portato qui a Milano Venditalia. Dopo 5-6 mesi da host, finalmente una fiera in presenza. È bello rivedere tutti i clienti e anche conoscere nuove persone con la speranza che diventino clienti. Noi questa fiera abbiamo presentato la Capsula compatibile dolce gusto in doppio formato. Abbiamo o il formato da 100 contenente 5 sacchetti da 20. Come possiamo vedere qui, eccola qui, doppio codice EAN sia da 100 oppure con 5 sacchetti da 20, quindi dalla possibilità all'esercente di vendere entrambi i formati. Oppure presentiamo la nuova Capsula da 50, Capsula imbussata singolarmente con doppia barriera che ci permette di salvaguardare quello che è l'aroma fin quando non viene aperto l'alluminio fuoristante. Ma non è l'unico prodotto che avete realizzato e presentato qui. Naturalmente c'è stata un'anteprima proprio a OCS ma il popolo del vending ne ha avuto una piccola traccia. Presentiamolo ufficialmente oggi qui a Venditalia. Allora presentiamo anche quella che diciamo è tutta la gamma di infusi e solubili. Su dolce gusto presentiamo come si può vedere tutta la linea con 13 miscele in astucci da 16 Capsula. Sono prodotti solubili mentre abbiamo per quanto riguarda il prodotto cialda ESE 44 mm tutta la linea infusi dove abbiamo 11 nuove miscele. Scendiamo nel dettaglio. Riesce a ricordare tutte e 11 qualità come si chiamano? Allora per quanto riguarda le cialde dovrei ricordarle tutte dato che è il mio lavoro, il mio pane quotidiano chiamiamolo, mettiamolo diciamo sotto questo aspetto. Abbiamo orzo, ginseng, per quanto riguarda le cialde ovviamente abbiamo orzo, ginseng, ventre piatto, tisana buonanotte, frutti di bosco, infuso zenzero e limone, zenzero e cammella, curcuma, limone e miele, te nero e te nero e limone. Beh ce l'hai fatta, le hai dette tutte e 11 porca miseria, insomma sei degno di un gioco a quiz televisivo perché io l'ho fatto con un tantino di cattiveria, ho detto vi diamo se ricorda tutte e 11 le qualità che vanno a presentare e sei stato veramente molto bravo e abile, bravo, complimenti, complimenti Simone, sei un professionista. Mi ringrazio Fabio, grazie per le belle parole, poi dette da te mi riempiono il cuore. Beh io ho cercato semplicemente di colmare non tanto il cuore ma il vuoto eventuale perché ho detto questa non la taglio, se la sbaglia gli tiro le orecchie e invece no, sei stato veramente bravissimo, complimenti davvero, davvero Simone. Simone ci incontreremo prossimamente in altra intervista per raccontarci qualche altra primizia di Caffè Toraldo. Va bene Fabio, è sempre un piacere rivederti, un saluto a tutti e buon proseguimento. Alla prossima. Ricordiamo però qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui chi è dall'altra parte vuole entrare in contatto con ti o con l'ufficio commerciale di Caffè Toraldo. Allora abbiamo doppia mail o info chiocciola caffettoraldo.it o altrimenti clienti chiocciola caffettoraldo.it Ovviamente le mail, questi sono mail aziendali di riferimento dove veicolano anche le mail commerciali che saranno girate a me di persona seguite direttamente da me o dai miei agenti e dalla mia rete commerciale. Grazie, grazie davvero per la professionalità e il contributo per questa intervista. Grazie Simone. Grazie mille a te, un abbraccio a tutti. Grazie mille a te, un abbraccio a tutti.